L'Acta Italia edizione Puglia è iniziata ieri con il botto, come si direbbe, nel senso che c'è stata una affluenza incredibile anche qui in Puglia, sono venuti tanti docenti, tanti dirigenti scolastici, c'era appunto tantissima formazione, quindi il primo giorno è stato un gran successo, stamattina c'è altrettanto afflusso di dirigenti e di docenti che fanno formazione, che vanno in giro per gli stand, quindi diciamo che finora siamo ancora a metà dell'opera, però finora possiamo dire che il corpo docente pugliese ha risposto con grande entusiasmo e questa è la cosa che per noi è più importante.